sapete che cosa ho appena fatto ho abbassato solo un po i miei livelli di noradrenalina un neurotrasmettitore che regola il nostro livello di allerta quando è troppa ci sentiamo stressati quando è poca è come se avessimo la mente annebbiata e in entrambi i casi non riusciamo a concentrarci magari per studiare fare attenzione al ritmo ci permette subito di capire come il respiro influenza il nostro stato fate una prova con l'esercizio suggerito dal neuroscienziato più famoso di internet andrew uberman inspirate profondamente e poi buttate fuori l'aria molto velocemente per circa 25 30 volte poi espirate tutto e trattenete il respiro per circa 15 secondi durante la prima fase il battito cardiaco accelera e di conseguenza che sentite allerta concentrati mentre nella seconda fase succederà all'opposto questo tipo di respirazione ci permette di raggiungere un equilibrio tra focus e calma perfetto per ragionare lucidamente e per studiare